Ci troviamo a Salussola, questa è la chiesa parrocchiale, abbiamo sei campane, adesso vi faccio ascoltare il nuovo Angelus festivo con le cinque campane minori. Questa suonata adesso suona anche un quarto d'ora prima della messa dopo la tribauda che è stata lasciata come primo segno. A presto! 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 A presto!